Testimoni della Calabria bella, davvero, questa è la sintesi, la motivazione con la quale il Consiglio Comunale di Caccuri, siamo nel Crotonese, ha voluto conferire al Procuratore Nicola Gratteri, al Maestro Orafo Michele Affidato, la cittadinanza onoraria di uno dei borghi più belli della Regione. La cerimonia, semplice ma molto sentita, si è tenuta ai piedi della splendida torre del Castello di Caccuri, che è ispirato il Maestro per la realizzazione del Premio Letterario, giunto ormai alla non edizione. Dottor Gratteri si è emozionato stasera? Sì, è stata una cosa molto bella, l'ho sentito questo premio perché ho bei ricordi degli anni passati, belle emozioni, non solo per il dato, per il fatto che ho vinto un premio, ho vinto il premio Caccuri, ma anche e soprattutto vedere una comunità molto affettuosa, molto vicina, che mi dà molto calore, e questo mi piace molto, è molto bello perché è una cosa vera, mi riaccorgo quando le cose artificiali sono vere, questa è una cosa vera. Lei crede in una calabria migliore? Sì, certo, io credo in una calabria migliore perché altrimenti non sarei qui, se io non fossi convinto della possibilità di cambiare le cose, io a quest'ora sarei stato in un'altra città, in un altro posto, avrei accettato un altro incarico a Roma, io invece penso, sento, che già abbiamo fatto dei passi avanti, che stiamo facendo cose importanti e possiamo farne altre ancora. Maestro Affidato, come commenta questa cittadinanza onoraria? Ma questo non può che farmi piacere, ovviamente per me è un grande onore questa sera ricevere la cittadinanza onoraria di Caccuri, di questo veramente voglio ringraziare il signor Sindaco, l'Avvocato Mariana Caligiuri, ma tutta l'amministrazione comunale, la calabria deve stare unita, devono essere la legalità, le istituzioni, gli artisti, tutti insieme, perché poi come si suol dire l'unione fa forza, per cui ecco per me veramente questa sera vivo questo momento con grande gioia. Alla cerimonia hanno partecipato le massime autorità provinciali, iniziare dal prefetto Tiziana Tombesi. Sulla cittadinanza onoraria, al magistrato e al maestro Orafo, il sindaco Mariana Caligiuri sottolinea. Perché entrambi in campi ovviamente diversi rappresentano la calabria che vuole crescere, che vuole fare, che ci crede ancora. Credo che sia il caso di mettere un pochino da parte quasi la filosofia dei vinti, che ci portiamo dietro e quindi invece dare voce, comunque maggior voce, a chi invece crede in un futuro migliore per la Calabria.